Ciao, voi siete Miss? Miss Napoli, il cinema campanile. Ma voi siete le ragazze della porta accanto? Sì, perché siamo semplici e solari. La domanda che tutti si fanno, siete le ragazze della porta accanto? Ovviamente, io aspettavo se io mi entrate. Senti, ma sei la ragazza della porta accanto? Assolutamente sì, sono ragazza semplice della porta accanto, perché può essere che nelle porte accanto ci si trovano tante sorprese. Ma te ti ci senti il ragazzo della porta accanto? Sì, in distanza. Virginia Cey è la ragazza della porta accanto? Certo che sono la ragazza della porta accanto. Senti, ma te sei la ragazza della porta accanto? Sì. Ma quello che ci si chiede, dov'è questo condotto?